Ma ciao! Buongiorno, buon pomeriggio e direi proprio buono anche se qua piove, è una brutta giornata, sembra proprio inverno patocco, sembrano quelle giornate dei sampi e dei morti, proprio brutte dove piove, dove fa freddo, ma noi chi ce ne frega, chi se ne frega, perché tanto qua siamo al coperto. Cosa siamo qua per fare? Cianci alle bande, bande alle anciance, non siamo qua per sciacquare le palle ai giaguari, nemmeno per pettinarli, ma siamo qua per coltivare, piantare, seminare o quel che volete dire, le scimmie di mare. La versione economica delle scimmie di mare. Versione economica perché? Perché sono uguali delle scimmie di mare quelle che vendono, però queste non hanno l'acquario. Allora queste le ho pagate 6,90 euro, così. Invece c'erano 15,90 euro, ok, ho sparmiato 9 euro, quindi c'erano 90 che hanno pure l'acquarietto così blu, trasparente, dove dentro ci sono delle piantine finte, così, ma chi se ne frega, io ho fatto il fai da me, fai da te e fai per tre, ecco qua, ho preso una bottiglia dell'estate, l'ho tagliata, l'ho tutta fatta bellina, arricchita così, con le perline che mi ha mandato Corinne dalla Francia. Guardate che bella che è, li ho già messo dentro l'acqua, risparmiamo 9 euro che al giorno d'oggi è meglio risparmiarla e spendere in qualcos'altro, ecco, e perciò mi sono fatta l'acquario fai da me e ho speso 9 euro in meno. Ecco, allora, qua il problema è che non c'è scritto in italiano, ci sono tutte le lingue, ma l'italiano non c'è. Io mi sono andata a vedere un video su YouTube dove le seminavano, le impiantavano, le coltivavano, ok? E ho guardato lì come si fa, perché qua guardate, ma non c'è, dovrei andare nel traduttore, ma comunque è facile. Dentro c'è la bustina, la bustina delle scimmie. Aspettate che vuoi fare il flesso, la bustina delle scimmie, la bustina del mangiare delle scimmie dopo che sono nate, perché, ma bisogna mettere qua, ma, ma, aspetti, aspettate, state lì che un po' alla volta facciamo. Intanto apriamo questa, apriamo questa e dopo, dopo la catastrofe dell'ananas, mi sono data a qualcosa, qualcosa deve nascere. L'ananas ormai è defunto, lì abbiamo già fatto il funerale, è già stato cremato, ecco, e quello se ne è andato a miglior vita, l'ananas, ecco. Ma allora, morto un'ananas, se ne fa un altro. Io invece di fare un altro ananas, ho optato per le scimmie di mare, sperando che queste crescano e non facciano la fine dell'ananas. Ecco, altrimenti qua non è più una casa, qua è una strage tra scimmie e ananas e cose, ma qualcosa faremo nascere, perché se non nasceranno neanche questi, ho già in mente qualcos'altro, qualcosa faremo nascere. Allora, dentro c'è, dentro c'è questa qua, questa qua, che ho visto che è una pompetta, perché, vedete, bisogna fare così ogni, ogni due giorni, ogni due giorni, bisogna fare così, perché bisogna fargli andare l'ossigeno per ste scimmie, ok? Devi ossigenare l'acqua, perciò con questa si ossigena l'acqua. Poi c'è la bustina che è il mangiare, alimentation, food, alimentation, nouritude, 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 aquadragons, ok? Questo allora è l'alimentarum, alimentation, nouritude, questo è il mangiare, quando sono nate, gli si dà la pappa, qua. Perché dopo, una volta che sono nate, una volta che sono nate, glielo dai questo una volta, basta darglielo una volta, perché dopo loro lo mangiano e loro dopo si cibano mano a mano con la cacchetta che fanno. Loro mangiano questo, fanno la cacchetta, facendo la cacchetta mangiano quella ed è tutto un così, si mangiano la cacca, praticamente vivono così. Queste invece sono le scimmie, queste sono le scimmie di mare, che poi io mi sono chiesta, cosa sono ste scimmie di mare? Perché le chiamano scimmie di mare? Chiamasi scimmie di mare perché, se ho capito bene, sono degli esseri viventi che non sono scimmie, ma non sono neanche pesci, è un ibrido, un miscuglio, sono degli esseri risalenti ai musulmani, risalenti alle mumie, neanche alle mumie, risalenti ai draghi, quando c'erano i draghi, quando c'erano i Jurassic Park, avete presente Jurassic Park? Ecco, quando c'erano lo non Jurassic... non ce la posso fare, no Jurassic, sono creature giurassiche, ok? Sono creature non di Jurassic Park, il film non c'entra niente, sono creature giurassiche, cioè creature di milioni di anni fa, non lo so come mai che hanno ste bustine con ste uova qua, le avranno tenute da milioni di anni fa e le hanno... non lo so, non lo so, io mi fido di quello che ho sentito dire, comunque sono degli esseri che non hanno, non sono come pesci con le lische, le squame, no, sono che hanno un coso così, cioè sono così, hanno non i capelli, ma hanno due orecchie così tipo, e poi c'hanno un muso così, allora c'hanno le orecchie così, un muso così, e una coda lunga tipo sirena, con in fondo un coso, e c'hanno pure le mani. Mo ve le faccio vedere, dovrebbero essere queste, vediamo se riusciamo a farle in... così sono, eccole qua, vedete la foto? Vedete la foto? Ecco, vedete che c'hanno un muso così, sti due fari qua così, così, le manine, così le manine, poi tutto tipo un coso così, che è il corpo, ecco, dovrebbero essere così, ma vediamo qua cosa c'è su, magari qua l'italiano c'è, no, qua non c'è niente importante, non lo so, non c'è scritto italiano cosa è importante, ma chi se ne frega, qua è dove il certificato dei draghi, ma non erano scimie, vabbè, scimie di mare le chiamano, qua c'è scritto draghi, draghi, scimie, vabbè, dai, uguale, vediamo, no, non c'è, allora, italiano, forse qua lo trovo l'italiano, vedete, ah, qua c'è tutto, 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 da quando nascono a come diventano, sembrano tipo delle api con gli occhi così, allora, vedete, prima diventano delle palline, poi si schiudono e viene fuori tipo un vermittino, che poi gli viene il corpicino e gli cresce quello, così, ecco qua, guardate, vedete, qua, ecco tutto il procedimento di come vengono ste scimie, ste dragoni, ste affari qua, e questo, ma che bellino, ma guarda che bellino, questi qua sono quelli che, vedete, così, devono venire più o meno, vabbè, dopo non verranno così che ridono e vi fanno ciao, cioè, qua li hanno fatti così, non è che vengono fuori che ti fanno ciao e ridono e con le manine così, però più o meno devono venire fuori sti esserini, niente, non c'è l'italiano, devono venire fuori sti esserini, un po' strani, draghi, come cazzo, mi è caduto, aspettatene a fare, ok, mi era caduto questo che è per smissiare, smissiare tutto, ok, allora, adesso noi andiamo, che non sbaglia, eh, dov'è? Questo alimentation e uvo, ah, questo u, 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 eggs, u, 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 ci sono le uova ma andiamo ad aprirlo perché ho visto io nel filmato che apri verse e dopo devi smissiare tutto perché poi devi tirarli su se volendo vedete che c'è l'affarino così non so se serve per tirare su i cadaveri questi se muoiono mano a mano che muoiono o li trovi morti è un tipo un coso per tirare su i cadaveri andiamo giù ecco qua mi siamo qua c'è scritto di mescolare per un minuto ho visto che c'era scritto di mescolare questo qua ecco qua mescolare fino a che si è sciolto tutto questo affare vedete ecco qua perché dopo l'acqua diventa limpida ok l'acqua diventa limpida facciamo così che facciamo prima vediamo ecco così ecco ecco ah no ma mi crescono le scimmie di mare pure uh no 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 è uscito un po' ma speriamo oh quanti morti mi sa perché se erano tutte scimmie di mare queste mi è uscito un po' qua vabbè non importa avrò fatto un po' di cadaveri ma tanto non sono ancora schiuse le uova perciò ok 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 ma bisogna c'è scritto lasciarla lì lasciarla lì coprirla coprirla così ecco coprirla c'è scritto di coprirla dopo mano a mano l'acqua anzi ne aggiungiamo un po' va perché mi sa che adesso che è andata fuori mi sa che ecco mettiamo crepi l'abbondanza anzi crepi l'avarizia ecco qua ma andiamo a coprire adesso l'acqua adesso l'acqua diventerà trasparente basta non c'è altro da fare bisogna lasciarla lì in un posto c'è scritto non troppo caldo non troppo freddo perciò io le metto là in cima al mobile dopo 24 48 ore dovrebbero schiudersi le prime uova dopo 24 48 ore si schiuderanno già le prime uova io adesso devo ricordarmi di farvi aria perché va fatta aria ogni ogni tot non mi ricordo comunque devo andare a vedere che va fatta aria perché gli va l'ossigeno dentro e che dio ce la mandi buona o buona e vedremo se nasceranno sti 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 draghetti qua sti affari qua io adesso la metto là fra due giorni fra due giorni poi qua vedremo cosa nasce noi ci aggiorniamo questo video lo vedrete magari che saranno già nati perché io lo sto registrando oggi è giovedì oggi è giovedì 30 mi pare 29 30 comunque è giovedì oggi venerdì sabato sabato dovrebbero essere già nati dovrebbero essere già nati vediamo sabato farò un altro video e registrerò la nascita però potevo mettere anche rosa azzurra e rosa maschio e femmina perché non si sa io ragazzi qua vi saluto vediamo vediamo tra due giorni io vedo com'è com'è proceduto com'è processo qua se sono nati praticamente e e basta ciao ragazzi alla prossima